Ciao a tutti ragazzi, io sono Coridan, ancora una volta ben ritrovati nel mio canale. Oggi vi presento il gioco di ruolo ufficiale di Dune, edizione Modifius, gioco della Modifius, portato in Italia da Need Games, che tra l'altro ringrazio immensamente di cuore per avermi offerto questa copia per la recensione. Senza tante presentazioni, anche perché è uscita la prima parte del nuovo film da non molto tempo, Dune è il padre di tutta la fantascienza moderna, di tutta. Se non fosse stato per Dune, a parte Star Trek, che anche quello è padre a sua volta, se non fosse stato per Dune non sarebbero tranquillamente mai esistiti Star Wars e anche ambientazioni come, ad esempio, Warhammer 40.000, che io adoro e mi piace da morire, ma non soltanto. Quindi è grazie a Dune e a Frank Herbert se tutto questo oggi esiste, e vedrete che in questo gioco tutti quanti i fan della SA dei libri e i fan del vecchio film di Lynch e del nuovo troveranno tutto quello di cui avevano bisogno per ambientare un'avventura su Arrakis, detto Dune. Dopo la sigla. Dune, in questa edizione italiana, cura di Need Games, tra l'altro vi consiglio, mentre guardate questo video di mettere di sottofondo To Tame My Land, degli Iron Maiden, che lo sapete, Bruce Dickinson, tra l'altro tante cose, è anche un nerd ed è un appassionato di Dune, roba disumana, infatti, parla di Paul, Moadi, Batreides e appunto di Dune, quella canzone. Il gioco di ruolo qui in questione è un gioco di ruolo di nicchia, questo ve lo dico subito. È un gioco di ruolo di nicchia e in questo video vi parlerò del manuale in sé per sé e vi parlerò velocissimo perché ci vorrebbero sette ore per fare un video su Dune, per spiegare tutto. Non vi parlerò del regolamento, che ci voglio fare un altro video perché ho altri manuali che vi voglio far vedere tutti insieme. Il regolamento è quello della Modifius, è il 2D20 System, che è un regolamento snello, veloce, in alcuni tratti un po' limitante secondo me, cioè se non uscite troppo dalle righe e giocate bene, se no poi diventa un po' limitato, mettiamola così, però ha un sistema veloce dove dovete semplicemente tirare 2D20 o più, nel caso scegliate di spendere punti o abilità o aiuti del Dungeon Master e cose del genere e dovete superare una soglia di successi con un risultato minimo appunto data dal Dungeon Master. È un regolamento molto veloce. Dune è un'ambientazione famosa perché siamo in un'ambientazione che ha 10.000 anni avanti nel futuro e vede una grande guerra che è stata chiamata Jihad Bulteleriana. In questa Jihad c'è stata una grande guerra laddove l'uomo, ripreso poi al 100% da Warhammer 40.000, proprio spudoratamente da GV, l'uomo ha dato troppa importanza alle macchine, le macchine intelligenti, anche semplicemente le macchine per fare il salto a curvature e cose del genere, insomma le macchine guidavano la nostra vita, un po' anche nel discorso Terminator, come vedete Dune ha dato i Natali e le idee a tutti, le macchine hanno preso il sopravvento. Avendo preso il sopravvento c'è stata questa guerra fra l'uomo e la macchina e quando con molte perdite la guerra è stata vinta dall'uomo hanno deciso di abolirle completamente. Nella nuova ambientazione dove sono state rimosse completamente le macchine siamo tornati a una specie di, concedetemi il termine, medioevo spaziale, Warhammer 40.000 ancora una volta, e l'imperatore e altre forze che sono le casate dell'Ensrad, che ora vi vado a dire, a descrivere cos'è, hanno deciso, cioè si sono spinti oltre, hanno deciso di levare qualsiasi tipo di tecnologia. Tecnologia a livello di computer, non vuol dire che non ci sono navi da guerra, incrociatori, armi laser, c'è tutto, è un'ambientazione futuristica, come fai a fare i viaggi fra un sistema stellare e l'altro. Però comunque sono state rimosse tutti quanti i calcolatori computer e hanno, sul pianeta X, hanno iniziato ad addestrare i Mentat, se vi ricordate i Mentat, se non erro era Tufirawat, forse, di casa Treydes, se non erro, hanno preso questi uomini che sono dei calcolatori umani. Sono uomini con un'intelligenza tale da riuscire ad eguagliare una macchina e anche a superarla. Però hanno il condizionamento imperiale e quindi sono comunque servi al 100% della casata Corrino, che è la casata dell'imperatore Padishashaddam IV, e ovviamente sono anche al servizio delle casate nobiliari dell'Enzrad, perché quelle più importanti sono la casa Corrino dell'imperatore, la casa Treydes, di cui fanno parte il Ducaleto e Pola Treydes, che avete visto nel film Muad'Dib per i Fremen, e la casata Arconnen, di cui il capo è il barone Vladimir Arconnen, con il suo nipote Rabban, la bestia. E è un'ambientazione molto bella, perché gira tutto intorno a un pianeta unico nell'universo conosciuto, fra migliaia di sistemi colonizzati, questo pianeta Arrakis, chiamato Dune dai Fremen, che è il popolo nativo che abita quelle terre, viene chiamato Dune perché è un pianeta completamente desertico, c'è l'ossigeno, si può respirare, però è un pianeta inospitale al 100%, ci sono questi vermoni giganteschi, che hanno dato i Natali a Tremort, cioè Dune ha dato i Natali a 50 opere, e come dico appunto il pari di tutto, e questi vermoni sono su questo pianeta, e si pensa che la spezia, chiamata anche comunemente melange, che è quella che ha portato tutte e quanti le casate, l'imperatore, a fare conquista e guerre su questo pianeta, Dune, sembra, e ripeto sembra, che sia prodotta dai vermoni, sembra che siano le feci di questi vermoni delle sabbie, che i popoli, tra l'altro dove l'imperatore dà concessione a una casata, vadano sul pianeta a raccogliere la spezia, perché la spezia dà la preveggenza, allunga la vita e dà poteri veramente senza alcun limite, vi basti vedere Paul Atreides Muad'Dib nel film, che quando le prende, cioè, prende anche il dono della chiaroveggenza, prende anche dei poteri particolari, tanto da diventare imperatore dio di Dune, e far piovere su Dune, cioè quindi delle cose, diciamo, far arrivare l'acqua su un pianeta dove magari l'acqua mancava da 4 miliardi di anni, o forse non c'era proprio mai stata, e quindi dà dei poteri assurdi, la gilda spaziale, che sono coloro che muovono tutto, che hanno le navi con i motori a curvatura, che si chiamano motori a curvatura di Holzman, questi motori a curvatura, la gilda spaziale, dà ai loro migliori piloti, chiamati navigatori, a ribordo a One Ammer 40.000, li fa ingerire talmente tanta spezia, che loro vengono modificati anche nell'aspetto, e diventano dei, come le specie di Mentat, dei calcolatori umani, perché il problema di fare un salto a curvatura è che non sai dove vai a finire. Laddove un tempo il salto a curvatura, prima della G-Ad Bluteriana, veniva fatto dai computer, a bordo delle navi, ora come lo fai? Se salti da un punto A a un punto B a 100 anni luce di distanza, in curvatura ci arrivi in 3 secondi, il problema è che poi magari sbuchi in mezzo al Sole, oppure sbuchi in mezzo a un campo di asteroidi, oppure sbuchi in orbita con un pianeta, ti risucchi e ti spacca. Quindi serve qualcuno che abbia l'onniscienza di sapere dove andrà, e questi sono i piloti della gilda, con cui appunto vengono modificati geneticamente dalla sue fazione totale della spezia, che ricordo trovati soltanto su Arrakis Dune. Questo, come dicevo, è un gioco di ruolo di nicchia e regolamento nel prossimo video, perché è un gioco di combattimenti, ma è l'ultima parte, cioè se dovesse da una percentuale i combattimenti sono l'8%, non si arriva al 10. Questo è un gioco di fantapolitica, tipo Game of Thrones, è un gioco di alleanze, è un gioco di pugnalate alle spalle, e infatti in questo gioco non solo creerete i vostri personaggi, ma tutti quanti dovrete creare anche la vostra casata, cioè dovete creare la vostra casata maggiore o minore, se il DM ve lo concede, di solito minore, al servizio di una casata maggiore, tipo gli Arkonen, e dovrete, sarete mandati su Arrakis e dovrete fare il bello e il cattivo tempo e giocare questa politica fra tutte le casate dell'Encerad, che l'Encerad è praticamente una specie, no di consorzio, ma di grande organizzazione che va a dettare regole per come appunto devono funzionare tutte queste casate che tutte quante sono al servizio dell'imperatore, della casata Corrino che vi ho detto principalmente, quindi voi dovete andare a interpretare una di queste casate maggiori o minori. La cosa forse limitante è che il manuale è fatto benissimo, vi dice tutto sull'ammettazione, ragazzi, tutto, 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 non gli sfugge niente, è fatto veramente, dà paura qui, comprate questo o giocate, non è come in altri manuali senza fare una tirata ad orecchie, però, come vi dirò nel prossimo video, in Akhtung Tulu, bellissimo, lo voglio giocare, della Need Games, compro il manuale del giocatore, c'è scritto tutto, non c'è l'ammettazione, come nella leggenda dei Cinque Anelli, non c'è, volete l'ammettazione, vi dovete comprare anche il manuale del Dungeon Master, quindi ne dovete comprare due, qui c'è tutto, tutto, e secondo me anche di più, cose che nemmeno sapevo, perché mi reputo un fan di Dune, cose che non sapevo, cioè ci hanno aggiunto veramente tanta roba, veramente completissimo, però il problema è che il gioco, sì, potete fare una breve avventura su Kaladan, il pianeta degli Atreides, o una breve avventura su Jedi Prime, che sarebbe il pianeta natale degli Arconnen, però poi il gioco viene tutto, cioè abbiamo un universo intero colonizzato, centinaia, ma migliaia, di sistemi solari colonizzati, e poi giocherete sempre su Dune, non per forza, è però nella maggior parte, nell'80% dei casi, giocherete su Dune, quindi averci un universo ai nostri piedi, tipo Alien, Warhammer, e altri giochi, Starfinder, e giocare solo su Dune, potrebbe essere un po' limitante. In conclusione, Dune, il gioco di ruolo in questa edizione italiana, a cura di Need Games, che ringrazio proprio immensamente, come sempre, è un onore collaborare con voi, è un gioco di ruolo, purtroppo, e ragazzi, quello che trovate sul canale di Coridan, professionale o meno, io cerco di esserlo, sono pareri personali, quindi non prendete quello che vi dico come Bibbia, documentatevi anche meglio, però, a me, parere personale, Dungeon Master, da 25 anni, per me, è un gioco di nicchia, non vuol dire bello, non vuol dire brutto, per me, è spettacolo, cioè, lo giocherò, però è un gioco di nicchia, perché se comprate, infatti, vai, se compro un bel gioco spaziale, esempio lampante, si fanno battaglie spaziali, e andiamo a fare un gioco di combattimento, vi faccio andare su quel pianeta, poi sulla sua luna, e poi vi faccio cambiare sistema solare, no, questo è un gioco di fantapolitica, dove voi avrete la vostra casata, e la dovrete mandare avanti, farla muovere, con saggezza, nell'Ensrad, e guadagnarvi un posto, e magari un giorno, sconfiggere la casata dell'imperatore, e diventare voi la casata, imperiale, più importante, al comando delle legioni, Sardaukar, se avete visto il nuovo film, lo scopo è quello, quindi è un gioco bellissimo, ma molto di nicchia, e non mi sento di consigliarlo, a chi non sia fan di Dune, quindi chi ha visto il film, e gli è piaciuto, ok, chi ha letto i libri di Frank, e il figlio, Herbert, glielo consiglio, chi vuole provare un gioco spaziale, no, proprio detto sinceramente, no, magari provatelo, no, perché secondo me, potreste trovarci delle cose, cioè tutta l'azione che cercate, battaglie spaziali, The Expanse, no, zero, se fate una battaglia spaziale, in una campagna, è troppo, se lo volete ordinare, primo link in descrizione, in sovraimpressione, dalla gioco libreria Semola, al miglior prezzo sul mercato, nostro ovviamente negozio sponsor, e usate sempre il codice discount, Coridan 7, per avere uno sconto del 7%, e se superate la spesa di 79 euro, spese postali gratuite, in 48 ore in tutta Europa, quindi anche fuori dall'Italia, se lo trovate, nel catalogo, ma è finito, o proprio non c'è, scrivete al supporto a Corrado, al proprietario della gioco libreria Semola, e fateli presente, che arrivate dal canale di Coridan, ve lo troverà al miglior prezzo, e farà il possibile, appunto, per farvelo avere, anche fuori catalogo, quindi, il servizio è eccellente, per me, è una grandissima opera, grazie, Need Games, per averlo portato in Italia, ma no, 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 assolutamente, non è un gioco per tutti, è un gioco per i fan di Dune, ciao ragazzi, alla prossima, Grazie a tutti,